Il senso che ne io e ne molti altri consiglieri sapevamo della visita di questo console che solitamente invece viene pubblicizzato come in questi giorni si è potuto vedere per quanto riguarda esponenti politici australiani che probabilmente avevano lo stesso peso politico se non minore di questo console che rappresenta una forte cittadinanza a Reggio e anche un mercato interessante per Reggio Emilia. Quello che ci è sembrato molto strano è che a fronte di molte prese di posizione fatte da questo Consiglio Comunale, prese di posizione che hanno proprio investito l'esposizione, questo Consiglio sull'esposizione della bandiera del Tibet per solidarietà alla popolazione tibetana oppressa. Questo Comune ha stranamente tolto, chissà per quale motivo, siamo qui per questo, per capire e fare chiarezza su questo episodio, la bandiera proprio nel giorno in cui un console straniero potrebbe riconoscere magari questa bandiera. Questa bandiera è scomoda.